Ciao amici ragazzi, bentornati in questo mio video Oggi è Stacy Game che vi parla E oggi faremo un quiz Indovina da Superstar Dall'ombra, iniziamo 5 secondi abbiamo Primo The Rock Eeeh BOOMBA E andiamo E andiamo Passiamo un po' il volume Lei è Social Banks Cazzo, ho sbagliato Ho sbagliato Da l'imbra chiesa Perché questi pugnali Questo cazzo sto dicendo Questa roba qua sotto potrebbe essere Broccanese Ma era semplice Questa era semplice BRETARTI Intanto è brettarci Intanto Eeeh BATISTA ERA BATISTA ERA BATISTA ERA BATISTA Questo Sasha Sono gli occhiali Un porco due Coglioni Cazzo ERA BATISTA Di Undertaker Di Pana Di Occhiali Allora Di Becky Lynch Io li conosco Sono un esperto So tutte le regole So tutto E non mi perdo mai niente Però Sbaglio le ombre Ehm Io non si rilebbe Però Vabbè Scusate 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 e andiamo così sono di adesso perché direi break up ma mi sa che sbaglio di nuovo no però no se tronis ma chi è ma chi è ma no chi era ma sarà un video vecchio perché non lo conosco ma tra l'ora fa direi anche di si direi anche di si scusa Dometitens no 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 è un casino no 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 aveva ragione aveva stracazzo troppo grattro c'è non grattro c'è troppo 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 arabiccio troppo bello grosso meno alto grosso forse sono le cinture ma questo non so che è ecco non mi viene mai che si è non mi viene mai di voi cazzo la porta e bisogna capire bene perché secondo me lei è la signora Mani che è stata licenziata Bronson Reed Bronson Reed non c'era ancora però sembra Bronson Reed Kane perché non so chi dire Mark Henry era Mark Henry era Mark Henry questo era Mark Horton Scimus proviamo Scimus Scimus urlo eh urlo se non è urlo se è giusto vediamo Stone Cold adesso c'è in giro che ti scogli sto facendo un video Stone Cold Stone Cold Stone Cold Stone Cold Steve Austin Stone Cold Steve Austin e andiamo e andiamo adesso non voglio più sbagliare Treboleici una per Cesaro Cesaro o Treboleici 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 questo chi è questo chi è cose aival come vuoi ma ci chiama aival chiama aival bene ci vediamo un po' subito bella bella sottotitura